Per l'ospedale consulting l'ospedale del futuro è in realtà una reale esigenza che constatiamo nel paese. I nostri servizi che facciamo in oltre 150 ospedali ci dimostrano che effettivamente lo stato del parco edile ospedaliero italiano è sicuramente necessita di interventi di ammodernamento e quindi siamo testimoni viventi di questa situazione. Per noi è un'opportunità anche partecipando al JRP di collaborare con i colleghi delle altre aziende quindi condividere le competenze e proporre le nostre ai tavoli e auspichiamo ovviamente che si possa vedere una velocizzazione del processo di realizzazione dei nuovi ospedali perché i tempi che oggi vengono misurati sono troppo lunghi e fanno sì che gli ospedali collaudati siano poi progettati secondo schemi vecchi e soprattutto non più rispondenti alle inevitabilmente mutate esigenze e quindi fa bisogno poi del territorio a cui vanno a rispondere.